Perché i pazienti innanzitutto spesso sono polisensibilizzati, cioè hanno ormai sensibilizzazioni e sono anzi allergici a numerosi allergeni, la sovrapposizione porta quindi a un lungo periodo di sintomatologia e l'infiammazione così protratta è difficile da correlare a uno specifico agente. Pensiamo ad esempio all'infiammazione dagli acri che è un'infiammazione che è praticamente persistente e quindi anche in questo caso l'anamnesi da sola può trarci in inganno e non permetterci di correlarla a uno specifico allergene, esposizione ad un allergene.